Strano danneggiamento agli infissi della scuola dell'infanzia Sandro Pertini di Canicattì annessa ai locali del plesso padre Gioacchino Lalomia all'Acquanova. Stamattina il personale ha trovato i vetri della parte superiore dell'edificio, quelli che danno sul tetto, completamente sfondati. I cocci sparsi per tutto l'atrio, ma pare che nessuno si sia introdotto all'interno dei locali, quindi più che di un tentativo di intrusione potrebbe trattarsi di un danneggiamento. Al tetto della scuola si accede anche attraverso la scala del palazzetto dello sport Saetta e Livatino adiacente al plesso scolastico. Ma la cosa strana è che se qualcuno voleva entrare avrebbe potuto farlo da dietro, dove le finestre sono ad altezza Duomo. Invece si è scelto di sfondare il vetro a camera doppia delle finestre che danno sul tetto. La preside dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, Giuseppina Cartella, è stata informata dai Bidelli ed Asporto denuncia contro i gnoti e i carabinieri della locale stazione che hanno fatto un sopralluogo nella scuola e hanno rilevato i danni. Indagini sono in corso per capire se si sia trattato di danneggiamento o del tentativo di intrufolarsi per compiere un furto. Le lezioni non sono state sospese e i bambini sono rimasti regolarmente in classe.